Ispezione del Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Giancarlo Cancellerri al cantiere Lisseno della 640 e poi ai viadotti Petrusa, Morandi e nella Galleria Spinasanta ad Agrigento. Stamattina una visita a tutto tondo della 640, siamo partiti da Caltanissetta, innesto con la 19 e siamo venuti verso Agrigento controllando e visionando tutti i cantieri. Da quel lato su Caltanissetta i lavori sono ormai molto vivacizzati, si sta lavorando, stamattina abbiamo avuto anche l'opportunità di assistere all'apertura di un'ulteriore tratta stradale e questo ci fa ben sperare perché vuol dire che si sta lavorando e si sta lavorando in fretta. Ci siamo fermati poc'anzi al chilometro 14 che è quel restringimento che in questo momento e da qualche mese costringe a percorrere la strada in doppio senso di circolazione e in una decina di giorni quello verrà riaperto. Abbiamo completato i lavori di stabilizzazione attraverso la palificazione del versante che aveva avuto un cedimento, abbiamo superato questi problemi e adesso nei prossimi giorni si provvederà alla stabilizzazione del materiale, il conglomerato e poi la posa degli asfalti e la ricollocazione delle barriere per riaprirlo fra il 9 e il 10 del prossimo mese, quindi di marzo e dare la possibilità di riavere normalità su quel tratto stradale. Qui dietro è uno degli interventi per i quali il cartello sociale ha chiesto chiarezza e questo è importante perché due settimane fa abbiamo avuto il varo del ponte che adesso vedete alle mie spalle e sul quale si sta lavorando alla definizione delle ultime saldature. Procederemo poi con il posizionamento delle predalle e anche lì si comincerà a lavorare per fare il conglomerato cementizio, insomma tutti gli asfalti e tutto quanto. Sono lavorazioni che richiederanno qualche mese e maggio perché il cronoprogramma mi è stato anche stamattina riconfermato e io vorrò venire costantemente qui sul territorio per venire a verificare che tutto vada bene e che si stia procedendo per raccontare ai cittadini attraverso il vostro lavoro e dare notizie di prima mano. Quindi maggio 2020 questo ponte riapre con la contestuale riapertura delle canne principali della 640 ristabilendo finalmente un consono attraversamento del ponte e la possibilità di ricollegamento fra agrigento e favare. E quindi la normalizzazione anche dell'asse stradale principale. C'è stata anche un'accelerazione grazie al lavoro che intanto stanno facendo qui in loco l'impresa, ANAS, il contrente generale. C'è un lavoro a Roma che però viene fatto all'interno delle ole parlamentari dei deputati che rappresentano il territorio che non è secondario. Perché con la costante partecipazione a tavoli tecnici, anche con interrogazioni parlamentari, stanno tenendo il governo fortemente impegnato alla soluzione di questi problemi. E questo non è mai un male, anzi è sempre un bene e questa cosa chiaramente gli va riconosciuta. E poi c'è una bella collaborazione con quello che è il cartello sociale che ha un merito di avere acceso i riflettori, di avere portato le vostre telecamere continuamente sul territorio. Anche noi dobbiamo sottolineare l'impegno che sta mettendo il viceministro perché ci sta mettendo la faccia e sta mettendo anche il cuore. L'impegno del cartello è quello di continuare a fare da pungolo nelle situazioni in cui è necessario. Però la collaborazione che fino ad ora è stata messa in campo è davvero ingommiabile. I primi risultati si vedono, si vedono con il ponte che va avanti, si vede con il chilometro 14 che il 9 ci è stato detto sarà consegnato. Quindi questo non può fare che piacere. Pomeriggio visiteremo altre due realtà importanti per il nostro territorio che sono la galleria 118 e l'agregas 1 e 2 per vedere a che punto sono anche queste realtà. Quindi benvenga qualunque tipo di collaborazione anche da parte del cartello perché vogliamo che i cittadini abbiano le risposte nell'immediato, naturalmente rispettando i tempi necessari per le lavorazioni, ma nell'immediato avere delle infrastrutture necessarie che possano migliorare la vita di ogni cittadino. Grazie.